paura paura, paura, paura mi ha fatto spaventare il vito e ora? ho sentito gridare e ora? ho sentito gridare ma è troppo tardi e non volevo partire preso ho già studiato per colpa di qualcuno ho già studiato faccio studiato allora ma vai a cagare sei diventato una sega così ciao 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 ciao